Sì, però non c'era bene, non c'era bene, non c'era bene, era Pasqua, sabato, ah no non era Pasqua, era la prima, la prima è stata Aranco, la seconda? La seconda è questa, la prima, la prima, prima c'era una, sì è arrivata alle 3.30, ormai ci stavano tolti tutti le scatte, per prendere il sole, è arrivata a me, dobbiamo fare un po' di velocità? Vieni più qua, sì, vada via!